...con particola fisica che avete appena rispulso. Pertanto, per i poteri conferiti mi hanno avvitato il cuore. Nel nome del popolo italiano, Guernalda, avvocato dottor Interveristico, punti 110 su 110 e 9. ...avvocato dottor Interveristico, punti 103 su 110. ...a il popolo italiano, privazione di non c'è... ...con punti 90 su minutes. allora sborono Anna, sorridi brava non siamo, non siamo in giro bravita no, volevo proprio dirti che sei stata brava proprio brava Anna, felice? Anna, sei dimenticata davvero amorosa? che sezza di mare basta ciao ma caro, è un pazzo c'è un panda che non c'è un sassi che vedete? più vigile molto sportivo anduela brava 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 ok, brava dottore 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 del muso del cul día da fa'l cul día da fa'l cul Sì, era rivolto a te Anna Sì, proprio a te Hai sento la tesi in vado a vestito No, in realtà no, però effettivamente non è male È finita È brava la Nadia Anna, è finita È finita Discorso Allora, aspetta, quando tu sei benedetti, allora da qua esci, aspetta, se vai che accompagniamo un attimo Sì, esatto Anna, che punto sei nell'organizzazione della festa di laurea? Sì, siamo qua, interpidante a Besenac Prendi quanto ti dà Esatto, è una occasione che mi spetta una gamba No, no Beh, ti puoi curare E poi ti puoi curare Autocirare Grazie Adesso andiamo che... Sì, siamo in orario Anna deve prendere il 41 Aspetta, che vi oriento qua il palco Se tu esci dalla dritta, via Benedetti È quella la dritta, però l'autobus Do devi prendere sulla destra Ma che è un prezzo che mi ha affilato Io mi perdo sempre No, no, no No, no No